A tutto l'entusiasmo di un giovane, pur avendo compiuto 90 anni lo scorso febbraio, John Williams, qui alle prove con l'orchestra filarmonica della Scala per i due concerti straordinari che celebrano la carriera di un gigante della musica attraverso i suoi brani più conosciuti. Ieri sera l'appuntamento era dedicato agli under 30 e questa sera il compositore statunitense regalerà nuove emozioni in un concerto andato sold out pochi minuti dopo l'apertura delle vendite. John Williams vanta una prestigiosa lista di riconoscimenti, tra cui 5 premi Oscar, numerosi dischi d'oro e di platino, 2 vittorie agli Emmy, 3 Golden Globe e 25 Grammy. Autore di partiture iconiche divenute celebri grazie a titoli quali Star Wars e T. Schindler's List, Harry Potter, Indiana Jones e Jurassic Park. John Williams è uno dei più apprezzati compositori di musica per il grande schermo. Dopo aver firmato la colonna sonora del quinto episodio di Indiana Jones e di The Fablemos, l'ultimo film di Spielberg, Williams non ha minimamente la voglia di fermarsi. Forse sarebbe una buona idea, ma non per me, ha dichiarato il compositore. Per scrivere un'altra colonna sonora dovrei amare tantissimo il film, però, ha aggiunto, sono 50 anni che lavoro con Spielberg e a lui non posso dire di no.